Eccoci tutto, pronto per iniziare questo match, io sono Lorenzo Armando per la Sport Academy Vi accompagnerò in questa lotta alla prima posizione della Coppa a Costa dei Parchi Ricordiamo che l'evento è organizzato da Sport in Tour con l'affigazione dell'associazione italiana Cultura e Sport I ragazzi si accingono al classico saluto di rito Questa lotta alla prima posizione della Coppa a Costa dei Parchi per la categoria 2013 E' stata ufficialmente questa prima sezione di gioco Subito scontro, subito palla, intercettata dall'Accademia Calcio Roma Buon movimento in discesa di Molini Ruzza rimetterla in gioco a difendere i due pali dell'Accademia Calcio Subito prevenzione offensiva, l'occasione, Gimenez colpisce per sbaglio il pallone Cercano di addomesticarla col piede Subbacchiere! Subbacchiere! Senderebbe tutto pronto ora per la battuta Pronto Gimenez a battere Tiro alto che supera la barriera E arriva in rete A un minuto dall'inizio della match Il numero 77 Gimenez Bautista Firma questo primo gol In favore dei marchigiani San Benedettese si porta in avanti Vediamo vedere come gestirà La sfera il numero 15 Ma segno Riporta l'ago della bilanza al centro Marelli Un pallone a uno Gimenez cerca di rubare la palla di Virela Sua Buono lo stop di Pec di Teodoro Buono l'appoggio per De Santis E arriva il gol del numero 9 De Santis Francesco a firmare il gol dell'avvantaggio Si vociferano intanto cambi Nella panchina dei marchigiani Buono qui il recupero a centrocampo di Bianconi Appoggia cerca di saltare l'uomo Marelli Ancora per Brugnoni E viene colpito Uno giocatore della San Benedettese Grande gesto sportivo Di Brugnoni che va a consolare Flammini Come gestirà questa palla Gimenez la tocco ora su terra Che trova il compagno Poi il mancino Forse è sporcata la traiettoria No nulla di fatto Si riparte da Ruzza Pronto Gimenez Quattro uomini in barriera Posizionati La punizione Ancora il ballone buono E va in rete Regala una speranza Ai marchigiani Dico Spano che sigla Il gol dell'Empareggio Esplode il campo degli Oleandri Lago della bilancia che torna al centro E arriva in porta Gimenez Mi porta anche lui Anche Bianconi Va in rete Spano pronto Mancino che esce fuori De Santis Alla battuta Parato E riescono a tenerla Niente da fare La vittoria Sotto qualche protesta Nella cadena calcio Roma Il primo posto Coppa a costa dei parchi Dopo qualche momento di visitazione Non c'era sicurezza La vittoria Non c'era sicuro Pasqua Esplode Avvincere In Motivata